Promuovere in maniera unitaria e sinergica l'intero ambito turistico al pagoto. E' questo il ruolo dell'ufficio turistico gestito dal Consorzio Turistico al Pago Cansiglio che si trova a Farra dal Pago nelle immediate vicinanze del Lago di Santa Croce, la cui inaugurazione ufficiale è avvenuta questa mattina ma i cui servizi sono attivi già da qualche mese. Una struttura finanziata in parte con fondi europei ed in parte con fondi della Regione Veneto al cui interno il turista può avvalersi di un ventaglio di proposte per trascorrere al meglio le proprie vacanze nella Conca e al tempo stesso fare la conoscenza diretta con i prodotti delle aziende agricole locali che fanno parte del Consorzio Turistico. Una valenza sicuramente simbolica perché l'ufficio è già aperto da diversi mesi ma allo stesso tempo molto importante nell'unità di intenti visto che oggi erano presenti i tre sindaci dell'Alpago quindi si parla di Alpago come Conca e non diviso in vari comuni. Era presente la Regione con l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, l'euro parlamentare Tony Darè e l'amministratore unico della DMO. Questo per significare che c'è proprio un lavoro di squadra nella promozione e nel dare valore al territorio, in particolar modo al territorio dell'Alpago. I confini sono delle cerniere che vorremmo si aprissero, non si chiudessero. Quindi parliamo di Alpago e parliamo di Val Belluna, quindi di Feltre, di Belluno, parliamo della provincia intera. Un turista che arriva dall'estero e arriva a Venezia in aeroporto vede questo territorio come un territorio unico e unito.